Ciao a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi tutorial in collaborazione con BabyCraft. Ovviamente andiamo a giocare con la resina, il tappetino è l'ercio, lo so, solo che si è catalizzata la resina su e dovrei grattare, ma sono pigre, quindi vi beccate il tappetino l'ercio. Faccio prima ricomprarlo nuovo. Comunque, ritorniamo a noi. Oggi testiamo questo kit preso appunto dal sito di BabyCraft. Vi illustro velocemente cosa c'è all'interno del kit. È un kit davvero molto interessante, ve lo straconsiglio, per realizzare i fermacapelli. Allora, c'è all'interno il dosatore in silicone, poi ci sono esattamente tre tipologie di stampi per realizzare i fermacapelli. Questa è la prima tipologia, poi c'è la seconda tipologia, che è questa qui, che è diversa dalla prima, ed eccole qui. E poi c'è questo qui a barretta. Queste le trovo davvero graziosissime. Poi all'interno c'è la foglia oro, c'è ovviamente la foglia oro, la foglia argento, la foglia bronzo con dei riflessi stupendi all'interno. E c'è anche la foglia oro con dei riflessi sul celestino barra turchese. E anche questa è spettacolare. Poi ovviamente ci sono anche le clip per i fermacapelli. Tutte quante oro, ne sono diverse all'interno e ci sono ovviamente le tre tipologie. Sei per ogni tipologia. C'è la prima, poi la seconda e poi la terza. Ed eccole qua. Infine, all'interno del kit è presente anche questo pacchetto di strumenti con le pipette. Poi ci sono anche i proteggi dita e anche questi che sono adatti per prelevare il pigmento e poi inserirlo all'interno della lesina. Inoltre andrò ad utilizzare anche la catena strass presa sempre dal sito di BB Craft, che è uno scintillio unico da 2 mm. Questo è il codice. Ed eccolo qua. Poi ovviamente tutti i link ve li lascio anche in descrizione. E per quanto riguarda la resina, andrò ad utilizzare una resina epossilica, quella di Resin Pro. Già l'ho miscelata ed eccola qua. Già è pronta per l'utilizzo. La prima tipologia di fermacapelli è quella proprio con la catena strass. Quindi vado a ritagliare dei segmenti che siano appunto perfetti per questo stampo. Eccomi, ho ritagliato appunto i segmenti di catena strass. Ne ho ritagliate esattamente 5. E poi come vedete qui già ho ritagliato anche due segmenti di questa bellissima carta con le foglioline. È una carta plastificata ed eccola qua. Davvero molto molto carina con queste foglioline. Tra l'altro ho anche un vestito con la stessa trama. E quindi perciò ne ho realizzati due. E poi con il dotter pian piano ho fatto aderire la carta all'interno appunto dello stampo. in modo da non avere bolle. E poi semplicemente vado a versare la resina trasparente. Quindi vado a versare la resina. Ok. Adesso sempre col dotter. Ripercorro e vado ovviamente a eliminare tutte le varie bollicine. Volendo potevo anche aggiungere qualche glitterino all'interno della resina. O realizzare appunto la resina con... Colorare la resina con un pigmento. Ma volendo possiamo farlo anche adesso. Possiamo inserire all'interno un po' di foglia oro. E questi sono terminati. Adesso vado a realizzare quello con la catena strass. Quindi inserisco altra resina. Proprio un filo di resina come base. Eliminando ovviamente anche le bollicine. Adesso vado ad inserire la catena strass. Adesso le lascio catalizzare. Adesso vado a realizzare il viola. Adesso inserisco all'interno questi. Che sono davvero bellissimi. Ok. Poi qualche glitter fluxia. Così li rendiamo unici. E poi qualche glitter blu. Questo è il risultato. Adesso attendo la catalisi. Eccomi. Sono trascorsi esattamente due giorni. Cioè 48 ore dalla colata di resina. Ovviamente in inverno la resina ci mette un po' più di tempo. Per per catalizzare. Invece in estate solitamente. Già trascorse le prime 12 ore. Barra 24. La resina già è bella catalizzata. Perché ovviamente fa caldo. E quindi si catalizza prima. Quindi andiamo a scoprire i fermacapelli. Che ho realizzato. Ho realizzato appunto questi sei fermacapelli. E adesso andiamo a vedere. Wow. Stupendo. Sperando che si notano tutti questi glitterini. Prova a togliere. Ok. Prova a togliere sto faretto. Davvero davvero bellissimo. Ok. Lo riaccendo così. Non è uscita neanche una bolla. È perfetto. Andiamo a vedere anche gli altri. Questo anche è stupendo. Stesso discorso senza nemmeno una bolla. Ok. Faccio progressi. E quest'altro. Belli belli belli. Ok. Andiamo a scoprire anche gli altri. Andiamo a vedere questo con la catena strass. Ovviamente questo è il risultato. È il davanti. Quindi il luccichio resta. Invece questo ovviamente è il retro. Con la catena strass. Ok. Vi mostro anche questo senza luce. Ok. Dicevo. Il luccichio rende. Non mi dispiace se qui nei bordi è trasparente. Sinceramente non mi dà noia. Ma volendo si può anche inserire sul retro al limite una carta colorata. Oppure fare un altro strato di resina colorato in modo da non avere questo retro. Ma ripeto a me non dispiace anche perché poi dopo andrà questa sul retro che è dorata e quindi un po' si intravede anche in questo modo. Vedete? Poi vi mostro anche questa qui. Ok. Con la foglia oro. Aspettate vi accendo di nuovo la luce. Bellissima. Davvero stupenda. Qui sono uscite delle micro ma micro bollicine. Però sembrano che... Cioè sembrano perfette. Sembrano un po' di brina. Molto molto bello. Vediamo anche l'altro. Bellissimo. Anche in questo caso qui non mi dispiace del fatto che sia trasparentino sul retro. Perché poi stesso discorso andrà la clip dorata e quindi perfetta. Niente, andiamo con la colla a caldo ad inserire appunto tutti i vari fermacapelli sul retro. Al limite faccio in questo modo. Li metto tutti quanti all'interno dello stampo. Ovviamente nella parte in cui andrà poi la clip. In questo modo. Così dopo sono facilitata nel mettere la colla e poi le relative appunto clip. Anche in questo modo. Anche in questo modo. Rieccomi. Ovviamente la colla si è asciugata. E questo è appunto il risultato. E questa è l'ultima. C'è un po' di colla a caldo qui. Un piccolo filino. Ecco qua. Tolto. Ed ecco qui i miei fermacapelli pronti. Ovviamente questo come dicevo poi lo andrò a modificare nei prossimi video. Questi sono tutti i fermacapelli che abbiamo realizzato appunto con gli stampi presi dal sito di BB Craft. Io spero che questo video sia stato di vostro credimento. Lasciatemi un like e un commentino. Io come sempre vi saluto. Un bacione. E alla prossima con nuove creazioni. Ciao! Ciao!